In memoria di Sebastiano Tusa, giornata dedicata al grande archeologo, due eventi al Museo Paolo Orsi. Anche quest'anno, venerdì 10 marzo, torna la giornata dei beni culturali siciliani, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale dei beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nello stesso giorno del 2019. Per l'evento tutti i luoghi di interesse culturale della regione siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche saranno aperte gratuitamente al pubblico. Oltre agli ingressi gratuiti, inoltre, i parchi archeologi realizzeranno numerose attività. Iniziative come queste, afferma l'assessore regionale beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, testimoniano e ci permettono di comprendere quanto Tusa, uomo di grande capacità ed equilibrio, abbia amato quest'isola, un uomo che ha messo al centro del suo impegno il recupero della memoria storica, pur essendo sempre proiettato in un futuro fatto di innovazione e sperimentazione. Il nostro obiettivo è tramandare il ricordo e l'operato affinché i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere e ci consentono di portare avanti la sua visione dei beni culturali come strumento per la crescita della nostra regione. Queste alcune fra le iniziative dei parchi archeologici siciliani nella Valle dei Templi di Agrigento sarà possibile prendere parte a visite guidate inedite grazie all'apertura di luoghi esclusivi come le catacombe. A Selinunte il parco archeologico organizzerà al Baglio Florio e Pentelleria nei locali comunali e nella sede del Parco Nazionale la progressione dei due cortometraggi dal titolo oltre a Selinunte e a punti per la terra di Himm in cui Tusa racconta le storie di due terre a cui fu profondamente legato. Nel parco archeologico di Segesta sarà possibile prendere parte a una speciale visita guidata al Tempio Dorico dove saranno fornite ai visitatori le coordinate storico-geografiche inerenti all'antica colonia Elima e illustrate alcune tradizioni storiche relative all'origine dei segestani. Il parco archeologico di Siracusa sarà invece possibile prendere parte a due eventi che sederanno nei locali del Museo Paolo Orsi alle 16.30 è previsto il laboratorio didattico Piccoli Vasai dedicato ai giovani dai 6 ai 12 anni a cura di Civita a Sicilia alle 17.30 è in programma la proiezione del docufilm Ciauro i Risina e ricordi di un maestro d'ascia.